Anticipazioni Beautiful, trame delle puntate dal 1 luglio al 6 luglio 2024. Benvenuti nel nostro canale. Questo video esclusivo vi spiegherà cosa accadrà nelle puntate in programma su canale 5 dal 1 luglio al 6 luglio 2024. Vi preghiamo però, prima di iniziare, di supportarci mettendo mi piace al video, iscrivendovi al canale e di abbonarvi al canale usando il link in descrizione se non lo aveste ancora fatto. È un piccolo gesto che però ci aiuterebbe molto. E ora veniamo al video. A casa sua, Deacon riceve da Sheila un rifiuto all'invito per l'apertura del ristorante. Convinto che lei tema di perdere la propria libertà accedendo ai sentimenti che prova per lui, Deacon assicura che non le chiede di rinunciare a nulla. Sheila ribatte che la sua partecipazione le è impossibile. Deacon, tuttavia, insiste che affrontare l'impossibile è il suo forte e desidera ardentemente condividere con lei il suo successo. Più avanti, tra risate, ricordano la notte trascorsa insieme con Sheila in maschera. Deacon non riesce ancora a credere di non averla riconosciuta, rimarcando come, allora, fosse questione di vita o di morte. Alla domanda di Sheila sul perché l'abbia accolta nonostante la paura, lui risponde che lei sa il perché. Sheila sostiene di essere rimasta perché in fuga, ma Deacon vede oltre, convinto che non abbia potuto resistere alla loro passione e connessione. La considera unica, affermando di non aver mai incontrato nessuna come lei. All'accenno di Bill da parte di Sheila, che anche lui le avrebbe detto qualcosa di simile, nonostante sia commossa, rifiuta nuovamente l'invito all'apertura. Deacon suppone che la causa sia Bill e lei ammette che ha ragione. Deacon aveva creduto che la relazione con Bill desse la libertà di agire a suo piacimento, non di legarla a un perdente come lui. Sheila confessa di avergli detto parole dure per risparmiare loro dolore e guai legali. A un'osservazione ironica di Deacon, lei ammette di non negare i momenti felici condivisi, pur insistendo sulla loro impossibilità. Deacon assicura di non voler complicare la vita a Sheila o causare il suo ritorno in prigione da parte di Bill. Desidera solo che sia al sicuro e felice, lo stesso che lei vuole per lui. Le chiede di far sì che Bill la tratti bene, dato quanto ha sacrificato per lui. Sheila gli augura successo per l'apertura, ma lui sottolinea come non sarà lo stesso senza di lei. Dopo un lungo abbraccio, Sheila se ne va, trattenendo le lacrime sulla veranda. Da Bill, Wyatt e Liam cercano in vano di convincerlo a ragionare su Sheila. Durante una chiamata di lavoro di Wyatt, Liam affronta Bill sulle sue minacce verso Steffi e Finn, suggerendo di rinunciare alle minacce per evitare conseguenze legali per Sheila. Bill, però, non intende discutere di lei con i figli. Al rientro di Wyatt, nonostante i suoi tentativi, l'ostilità verso Sheila rimane forte. Bill si difende, affermando che Sheila lo accetta per ciò che è, suscitando dubbi sui suoi veri intenti e sulla fiducia che si possa riporre in lei. Alla Cliff House, Taylor e Steffi riflettono sulla presenza opprimente di Sheila nelle loro vite. Steffi esprime il desiderio di vedere Sheila in prigione. Nonostante le complicate dinamiche con Bill, sono determinate a unire la famiglia contro di lei. L'arrivo di Thomas, chiamato da Taylor, introduce una discussione sulla famiglia e la possibilità di superare insieme le difficoltà. Thomas, dopo aver ammesso di vedere uno psicoterapeuta, chiede un'altra possibilità, promettendo un cambiamento. Steffi, sebbene riluttante, si apre alla possibilità di dare a Thomas un'altra chance, enfatizzando la necessità di agire da adulti e riparare la fiducia reciproca. Taylor, orgogliosa, ricorda che la loro famiglia può superare ogni sfida, concludendo con un abbraccio simbolo della loro forza e unione. Una Steffi sorridente fa ritorno nella loro casa sulla spiaggia, radiosa per aver finalmente trovato, insieme a Finn, una sorta di routine nonostante il caos che avvolge la loro vita. Finn l'accoglie con un caffè e un bacio, esprimendo stupore per il fatto che la presenza di Douglas non sembri accrescere il disordine. Entrambi riflettono su come Douglas si sia reso utile, che sia allacciando le scarpe a Kelly o preparandosi per la scuola. Steffi confida a Finn le sue preoccupazioni per Hop. Teme che, con ogni giorno che passa, Douglas vivendo con loro, il dolore di Hop si acquisca sempre di più. La loro conversazione viene interrotta da una chiamata di lavoro per Finn. Al termine della telefonata, Finn insiste per concludere il loro discorso prima di recarsi in ospedale. Steffi racconta a Finn delle difficoltà che sta affrontando la linea Hope for the Future da quando Thomas è stato allontanato dall'azienda. Eric e Zende, spiega, non sono riusciti a emulare la visione coraggiosa e sofisticata che Thomas aveva impresso alla linea, tanto desiderata dai clienti. All'ospedale, li fa una visita inaspettata a Finn, lodando il suo impegno e il duro lavoro, notati da molti all'interno della struttura. Lei suggerisce che non passerà molto tempo prima che Finn venga promosso a capo del reparto. Finn, però, ridimensiona le voci di una possibile promozione. Liam rientra a casa dopo aver accompagnato Beth a scuola. Hope è sollevata nel vedere che l'assenza di Douglas non sembra avere ripercussioni negative su Beth. Hope rivela di mantenere una faccia coraggiosa di fronte a tutti, ma di soffrire profondamente. Liam cerca di confortarla dicendole che anche questo passerà. Hope, però, non è così sicura. Hope manifesta frustrazione per come alcuni stiano reagendo al suo dolore. Sbotta dicendo che è esasperata dal continuo rimarcare il fatto che lei è la madre adottiva di Douglas. Come se ciò dovesse cambiare qualcosa e Liam le assicura che non c'è assolutamente nessuna possibilità che Douglas rimanga definitivamente con Steffi. Nel frattempo, però, Liam tranquillizza la moglie sul fatto che Steffi si prenderà cura di Douglas con amore. Quando Liam chiede se c'è altro a preoccuparla, Hope elenca una serie di pensieri che le gravano, inclusi Sheila e le difficoltà incontrate dalla linea Hope for the Future, Liam la rassicura del suo sostegno. Alla Forrester, Carter trova nel suo ufficio un regalo e una cartolina con il suo nome. La nota di Eric all'interno lo felicita per il suo decimo anniversario in azienda, definendolo una delle migliori scelte mai fatte. Eric, entrando poco dopo, ribadisce di persona i complimenti. Mentre esaminano il budget di marketing, Eric anticipa la volontà di discutere dei problemi della Hope for the Future non appena arriva Steffi. Carter evidenzia che tutti i reparti, tranne Hope for the Future, stanno prosperando. All'arrivo di Steffi, che saluta Carter chiamandolo Signor Dieci Anni, si discute del futuro della linea, sottoperformante. Eric tenta di assumersi la responsabilità, ma Steffi e Carter insistono che la colpa non sia sua. Steffi dichiara che occorre prendere decisioni difficili, al di là dei sentimenti personali. Hope, entrata inaspettatamente, viene invitata a unirsi alla discussione. Nonostante l'impegno di Hope a trovare una soluzione, Steffi sottolinea l'urgenza di agire. La riunione evolve con l'arrivo di Thomas, desideroso di contribuire. L'approccio collaborativo e la determinazione condivisa emergono come elementi chiave per affrontare le sfide e guidare la Hope for the Future verso un nuovo successo. Al rifugio sulla scogliera, in compagnia di Taylor, Thomas esprime la sua soddisfazione per essere stato accolto, seppur con riserve, per poter vedere suo figlio. Ringrazia Taylor per essersi interposta affinché ciò avvenisse. Confida di essere in terapia e di essere impegnato a riconquistare la fiducia di tutti. Taylor, convinta della sua riuscita, gli ricorda che i suoi figli non sono nemici tra loro e che l'unico vero nemico è Sala Carter. Thomas ammette le sue gravi colpe, inclusa quella di aver chiamato i servizi sociali, e riconosce che permettergli di stare con Douglas rappresenta un significativo passo avanti. Taylor riceve un messaggio da Steffi, che invita lei e Thomas a recarsi alla Forrester. Nell'ufficio del CEO, Hope e Steffi rimangono sole dopo che Carter ed Eric si sono allontanati, lasciandole il tempo per un confronto. Hope è curiosa di sapere cosa le stia sfuggendo. Più tardi, Hope spiega a Steffi che la linea Hope for the Future è in fase di transizione, ma si riprenderà. Steffi, tuttavia, sottolinea che Zende ed Eric eccellono nell'Hot Couture, che dovrebbe essere il loro principale obiettivo. Steffi osserva che sono mesi che stanno continuando in questo modo e non si può andare avanti in questo modo, paventando l'idea di mettere in pausa la linea Hope for the Future, pur non avendo ancora discusso con Ridge, dato che i numeri non sembrano promettenti. Hope si dichiara convinta di poter migliorare le prestazioni, ma Steffi le fa notare le difficoltà con il nuovo team di design. Hope difende la capacità di Zende e ricorda l'impegno di Eric. Sottolinea che sono solo all'inizio e stanno già lavorando alla prossima collezione. Steffi ribatte che si tratta di una questione di affari, influenzata dal calo delle vendite, e insiste sulla necessità per Zende ed Eric di concentrarsi esclusivamente sull'Hot Couture. Hope sostiene che Hope for the Future va oltre i semplici vestiti, enfatizzando la comunità e il messaggio che vuole trasmettere. Steffi ammette di non voler cancellare la linea, ma di dover rallentare a meno che non trovino una soluzione. Steffi prende il telefono, chiamando qualcuno per far entrare Taylor e Thomas, che si chiedono cosa stia succedendo. Steffi annuncia che è il momento di decidere il futuro di Hope for the Future, spiegando che la linea ha successo solo in determinate condizioni. Steffi elogia il lavoro di Eric e Zende, ma ammette che non sono stati l'abbinamento giusto. Crede che per avere successo, Hope for the Future necessiti di un designer unico, suggerendo Thomas come candidato ideale. Steffi esprime fiducia in Thomas, che sta facendo terapia e sembra pentito. Sottolinea che Thomas ha pagato abbastanza per i suoi errori e merita una seconda possibilità, proponendolo per Hope for the Future. Taylor è entusiasta, e Thomas promette di non deludere. Hope, confusa, ricorda che poco prima Steffi voleva proseguire senza Thomas. Taylor ammette di aver mediato tra loro. Steffi spiega che ha deciso di dare a Thomas un'altra opportunità, a patto che Hope sia d'accordo. Crede che Thomas possa essere la chiave per salvare la linea. Nel frattempo, Liam arriva al giardino su invito di Deacon, che esprime preoccupazione per Hope e critica la decisione di Thomas di coinvolgere Douglas nella scelta di dove vivere. Liam concorda che Thomas non dovrebbe avere responsabilità di sorta. Entrambi sono preoccupati per la linea di Hope, ignari delle sue difficoltà. Deacon è sorpreso, ma Liam minimizza, sostenendo che i cambiamenti sono normali e che senza Thomas la situazione è gestibile. A casa di Bill, Sheila nota il suo silenzio. Bill, distratto dai suoi pensieri, promette divertimento nonostante i suoi impegni lavorativi. Più tardi, Sheila interroga Bill sui suoi pensieri e lui la rassicura con complimenti. Bill confessa di aver sacrificato molto per la loro relazione, cosa che Sheila apprezza profondamente. Quando Liam arriva, Sheila saluta con familiarità, ma Liam rimane freddo. Bill difende la sua relazione con Sheila, nonostante le preoccupazioni di Liam. Liam esprime il suo disagio e la sua preoccupazione per l'influenza negativa di Sheila su Bill e la famiglia. Bill, tuttavia, respinge le sue preoccupazioni, insistendo sulla sua indipendenza. Infine, Deacon riflette su Sheila, sorpreso dal suo ritorno nonostante avesse annunciato un addio definitivo. Sheila suggerisce che forse non intendeva davvero lasciarlo. Presso la Forrester, Taylor manifesta grande entusiasmo per il ritorno di Thomas, convinta che sia benefico per la guarigione di tutti. Thomas interroga Hop sulla possibilità di essere riaccettato come designer principale. Steffi afferma che la sinergia tra lui e Hop è insostituibile e esprime il desiderio di perdonarlo e collaborare nuovamente. Lasciando però a Hop l'ultima parola, ma sottolineando che per lei senza Thomas, Hope for the Future non esisterebbe. Hop, pronta a fare quasi tutto per salvare la sua linea, è perplessa dato che Steffi aveva precedentemente convinto Hop a non riassumere Thomas. Steffi spiega che in quel momento le ferite erano ancora troppo fresche e che ora Thomas ha intrapreso un cammino di cambiamento. Si dichiara fiduciosa nelle sue capacità, a condizione che Hop sia disposta a rinnovare la collaborazione. Thomas promette di rispettare qualunque decisione prenderà Hop, anche se ciò dovesse significare la fine di Hope for the Future. Hop riflette su quante volte ha permesso a Thomas di deluderla e farla soffrire. Chiedendole scusa, Thomas ammette che anche per lui è stato doloroso e riconosce la necessità di migliorare se stesso. Sottolinea come il ritorno a Hope for the Future rappresenterebbe per lui una sfida eccitante. Dopo l'uscita di Steffi e Taylor, Thomas assicura a Hop che farà tutto il possibile per riconquistare la sua fiducia. Hop gli ricorda di aver creduto in lui, evidenziando però una distinzione tra il desiderare e il realizzare. Si sente sopraffatta dagli eventi, dai numeri alla decisione che deve prendere. Thomas confessa di essere sorpreso quanto lei della proposta di Steffi e sottolinea che senza il suo ritorno, la linea sarebbe destinata a fallire. Nell'ufficio di design, Taylor esprime fiducia nel fatto che Hop accetterà, ritenendo che la continuità della linea dipenda da questa decisione. Steffi pensa che anche Ridge sarebbe d'accordo e la conversazione tra lei e Taylor evidenzia come la loro sia una mossa pensata non solo per gli affari, ma anche per il bene della famiglia. Da Bill, Liam esprime incertezza su come aiutare il padre, interrogandosi se Bill stia agendo impulsivamente. Bill, tuttavia, si sente a suo agio con le sue scelte attuali, nonostante Liam insinui che si tratti di una discesa verso l'autodistruzione. Bill respinge l'idea di bisogno di salvataggio, apprezzando la sua relazione con Sheila, basata sull'ascolto reciproco. La discussione tra Bill e Liam mette in luce divergenze di percezioni e preoccupazioni, con Liam che cerca una figura stabile e sicura per Bill, lontana dai rischi associati a Sheila. Bill però difende la propria relazione con Sheila, convinto della sua sincerità e del supporto reciproco. Nella residenza di Bill, questi minaccia velatamente Liam dicendo che un tradimento non sarebbe tollerato da Sheila. Liam ribatte che Bill ha concesso a Sheila carta bianca per agire a suo piacimento. Bill replica che, come Liam ben sa, lui non è solito concedere carta bianca a nessuno. Bill sostiene con fermezza che Sheila non lo tradirà. Liam interpreta questo atteggiamento come un segno che Sheila tenga alla sua libertà più che alla lealtà vera e propria. Liam, ritenendo che Bill stia mettendo Sheila al primo posto nella sua vita, lo incalza su dove questa situazione porterà. Di fronte al silenzio di Bill, Liam gli chiede se sia veramente innamorato di Sheila o se stia soltanto cercando di provocare una reazione nelle persone dimostrando di poter sottomettere chiunque, inclusa Salah Carter. Bill ammette di non aver addomesticato Sheila, una rivelazione che Liam accoglie con soddisfazione, definendo Sheila un elemento incontrollabile. Liam intravede in queste parole il Bill che tutti conoscono e amano, chiedendosi dove sia stato tutto questo tempo. Bill, però, non comprende il senso della domanda di Liam. Liam, scoraggiato, lamenta la solita stoica indifferenza di Bill e cerca di comprendere le ragioni del suo comportamento, domandandosi se Bill stia cercando di esercitare un qualche tipo di controllo. Liam, però, conclude che Sheila debba avere un significato particolare per Bill, anche se non riesce a capire quale. Chiede quindi a Bill quale sia la vera natura del suo legame con lei. Bill si allontana, lasciando Liam a chiedergli di promettere di essere almeno vigile su Sheila. Bill rimane in silenzio, ma con uno sguardo che sembra confermare la sua comprensione. Da Deacon, lui e Sheila si scambiano effusioni appassionate sin dalla soglia di casa, spogliandosi a vicenda lungo il percorso verso il divano letto. Preoccupata che Bill possa scoprirli, Sheila ricorda che Bill prova odio verso Deacon, sentimento condiviso da quest'ultimo, che trascina Sheila sul divano. Più tardi, avvolti nelle lenzuola, Sheila esprime gratitudine per il momento condiviso, pur sapendo di non poter rimanere. Deacon suggerisce di approfittare al massimo del tempo insieme. Successivamente, riposando insieme, Deacon riflette su come insieme trovino un senso di appartenenza. Sheila confessa il desiderio di legarsi a Deacon, una persona a lei vicina. Mentre guarda intorno, Deacon le fa notare che è abbastanza vicina da intuire i suoi pensieri. Sheila, turbata, si interroga sulle conseguenze delle loro azioni, temendo che Bill possa reagire inviandola in prigione. Deacon le ricorda che Bill ha già commesso gesti estremi, come far esplodere un edificio con Liam all'interno, sostenendo che la prigione sarebbe il meno dei loro problemi. Deacon insiste sulla necessità di affrontare la relazione con gli occhi aperti, mentre Sheila ammette di non aver soddisfatto l'unica richiesta di Bill, l'onestà. Conclude affermando che Bill non deve mai scoprire del loro incontro, temendo le possibili ripercussioni letali. Nell'ufficio di design, Taylor rileva l'importanza del ritorno di Thomas per Steffi, la quale sottolinea che Hope for the Future non sarebbe lo stesso senza di lui, spingendo Hope all'accettazione. Steffi si interroga su come Liam accoglierà la notizia, conscia che né Taylor né lei possono prevedere un suo assenso e temendo possibili ripercussioni sul matrimonio di Hope e Liam. Nell'ufficio del CEO, Hope e Thomas valutano la possibilità di una loro collaborazione futura. Thomas enfatizza come la loro sinergia sia unica e si domanda se Hope possa nuovamente fidarsi di lui. Quest'ultima esprime dubbi sulla propria capacità di fidarsi dopo aver rischiato di perdere tanto. Thomas si assume la responsabilità per le difficoltà passate, prospettando una nuova opportunità di essere d'esempio per il loro figlio. Dopo aver concluso una telefonata con Charlie, che la informava della presenza di Thomas nell'edificio, Hope confida a quest'ultimo di sapere che lui non le farebbe mai del male fisicamente, riconoscendo che in passato l'unico a soffrire è stato lui stesso. Thomas riconosce di non aver valutato le conseguenze delle sue azioni sulle persone a lui vicine, ammettendo che le critiche ricevute erano giustificate, anche se Hope non sembra completamente d'accordo. Hope desidera che Thomas provi vero rimorso e comprenda i limiti delle sue azioni. Nonostante le assurdità degli eventi recenti, si interroga sulla possibilità di credere nuovamente in lui e sulla sua volontà di cambiamento, a cui lui risponde affermativamente. Thomas ammette che Hope ha tutte le ragioni per essere scettica, ma le assicura che si sta impegnando in un percorso di miglioramento personale con l'aiuto di un professionista, al di fuori dell'influenza materna per garantire un'obiettività totale. Sostiene che insieme possono ristabilire la stessa sinergia di successo di un tempo, prima del suo ultimo errore. Di fronte alla richiesta di Hope di prendere un rischio significativo, Thomas promette di non deluderla. All'arrivo di Steffi e Taylor per recuperare il tablet, la conversazione si sposta sul futuro di Hope for the future. Steffi evita di esercitare pressioni su Hope ma evidenzia la necessità di una decisione imminente. Hope, ancora indecisa, riconosce il valore delle considerazioni di Thomas riguardo a Douglas. Steffi sottolinea l'impatto che la decisione avrà sulla famiglia di Hope, interrogandosi su come Liam reagirà. Hope riconosce che dovrà affrontare una discussione con Liam e che la sua scelta di collaborare nuovamente con Thomas avrà conseguenze anche su Brooke. A questo punto, Thomas si chiede come possa contribuire e Hope suggerisce che un passo verso il perdono potrebbe essere chiedere scusa. Thomas si interroga se un suo atto di contrizione verso Brooke potrebbe influenzare positivamente la decisione di Hope, che ammette potrebbe considerarlo un elemento in più a favore della sua reintegrazione. Concludono concordando che Thomas parlerà con Brooke mentre Hope discuterà con Liam, lasciando aperta la porta a future decisioni.